Cominciamo ora la traduzione del De Providenza di Seneca, un'opera che il filosofo volle dedicare al dotto discepolo Lucilio, che gli fu fedele compagno anche negli ultimi tristi anni della sua vita. Chi era Lucilio? Gaio Lucilio Juniore? Era più giovane di Seneca di una decina d'anni, aveva avuto umili natali a Pompei, come Seneca ci ricorda nella lettera 49 e anche in altre lettere, ed era un giovane intraprendente, molto colto, molto ambizioso e costruì sulle sue doti personali e anche su molte importanti amicizie la sua carriera, una carriera che egli avviò come cavaliere sotto Caligola e che concluse come procuratore della Sicilia sotto Nerone. Seneca lo conobbe e lo convertì dall'epicureismo allo stoicismo, ne ludò più volte la prosa e i suoi versi e gli dedicò oltre al De Providenza anche altre opere quali le Naturales Questiones e anche le Epistule, che infatti sono note come Epistule Morales ad Lucilium. Alcuni studiosi ritengono che Lucilio sia stato autore di un poemetto intitolato Etna e non sappiamo bene come concluse la sua vita, non sappiamo neanche se riuscì a sopravvivere a Seneca o se ne condivise addirittura la sorte. Allora, questa opera è dedicata alla Providenza, quindi ruota attorno al quesito che viene enunciato nel suo vero titolo, un lunghissimo titolo che in pratica pone al centro dell'attenzione questo dilemma, questo quesito. Perché accadono le disgrazie agli uomini buoni sebbene ci sia la Providenza? L'opera si articola complessivamente in sei capitoli che noi affronteremo uno per volta. Il contenuto essenziale del capitolo primo che ci accingiamo a tradurre è questo. Tra gli uomini buoni e gli dèi c'è un'amicizia, il cui punto d'incontro è la virtù. L'uomo buono differisce da Dio soltanto perché si trova nel tempo, ma è suo discepolo, è suo emulo, è suo vero figlio. Questo dice all'interno del primo capitolo. Da parte di Dio quell'amicizia si esplicita in una severa attività educativa, consona ai classici canoni della paideia, cioè dell'educazione. E questo in particolar modo lo dice nella parte finale di questo primo capitolo. Quindi nel primo capitolo si prende in considerazione la distinzione fra provvidenza fisica e provvidenza morale. Accingiamoci dunque alla traduzione di questo primo capitolo. Naturalmente, come sempre, per capire a fondo il testo, bisogna destrutturarlo nei suoi elementi fondamentali. Cominciamo a leggere. Allora, i verbi di questa prima parte sono quesisti, che è l'indicativo perfetto seconda persona singolare del verbo quero queris, quesivi quesitum querere, che vuol dire chiedere. Poi abbiamo ageretur, che è un congiuntivo imperfetto, terza persona singolare passivo, del verbo ago agis, egi actum agere. E poi abbiamo accident, che è un altro congiuntivo imperfetto, terza persona plurale, attivo, del verbo acido. Ai fini dell'analisi del periodo, in questo primo periodo, riconosco un quid, che sicuramente mi introduce un'interrogativa indiretta, è un sì che sicuramente mi introduce una ipotetica. Allora, andiamo subito in modalità pdf e così vediamo bene come si destruttura questa prima frase. Allora, se quid introduce l'interrogativa indiretta e sì introduce la ipotetica, dobbiamo verificare quali verbi si congiungano a questi due elementi subordinanti. Nell'ordine quid è un pronome interrogativo e sì è una congiunzione. Allora, io ho già assegnato questa costruzione a chiasmo. In effetti, il quid ha come verbo acciderente e il sì ha come verbo aceretur, quindi lontano sta con lontano, vicino sta con vicino. Tutto questo costruisce per l'appunto un chiasmo. La parola chiasmo è ripetuta anche subito dopo perché anche la disposizione di queste parole, multa, bonis, viris, mala, è a chiasmo perché multa va con mala e fra l'altro hanno anche un evidente nesso alliterante, multa, mala, e bonis va con viris. Anche qua ci sono delle assonanze foniche molto evidenti, tutte e due terminano con is e quindi possiamo parlare di omoteleuto, che è quella figura retorica che consiste nell'accostare dei termini con uguale terminazione, dunque omoteleuto. In pratica, se da quid fino a ciderent abbiamo due subordinate, quindi una interrogativa indiretta e l'altra ipotetica, significa che la principale sarà coesisti a me, lucili, anzi dovremmo aggiungere il vocativo lucili dentro il rettangolo rosso in cui ho inserito coesisti a me, quindi coesisti a me, lucili è la principale. Avviamo dunque la traduzione. Coesisti a me, mi hai chiesto. Ricordiamo che il verbo quero, che vuol dire chiedere per sapere, si costruisce con a o ab più ablativo della persona a cui si chiede qualche cosa, quindi noi diciamo in italiano io chiedo qualcosa a qualcuno, il latino dice io chiedo qualcosa da parte di qualcuno. Quindi traduco mi hai chiesto o lucili, quid ita, insieme vogliono dire perché mai, quid è propriamente un pronome interrogativo che però si fissa nella sua forma avverbiale, di accusativo avverbiale e possiamo tradurlo all'occorrenza anche con perché. Quindi quid ita, insieme vogliono dire perché mai, c'è poi la pausa della ipotetica, si, se, mundus, il mondo, ageretur, è governato, sarebbe fosse governato, ma nella traduzione sicuramente sta meglio è governato, come dire, se è vero che il mondo è governato, provvidenza è un ablativo di causa efficiente, dalla provvidenza, quindi perché mai se il mondo è governato dalla provvidenza, se l'universo è amministrato dalla provvidenza, ecco si completa adesso l'interrogativa indiretta, multa, quindi multa mala, molti mali, accidente, capitano, bonis viris agli uomini buoni. Accidente è un congiuntivo imperfetto secondo le leggi del consecuzio perché la principale è un quesisti che è un perfetto e quindi abbiamo quid accidente, congiuntivo imperfetto per esprimere una contemporaneità con dipendenza storica. Quindi mi hai chiesto l'ucilio perché mai, se l'universo è amministrato dalla provvidenza, molti mali capitano agli uomini buoni. Continuiamo con il secondo periodo, Oc commodius in contextu operis redderetur, compresse universis provvidenziam probaremus, et interesse nobis deum. Abbiamo un punto e virgola, ci possiamo fermare. Allora, i verbi in questa prima parte sono redderetur, che è un congiuntivo imperfetto, terza persona singolare passivo del verbo reddere, verbo della terza, quindi reddoreddis, redditi, redditum, reddere. Poi riconosciamo l'infinito preesse, che è un composto di sum, quindi pre-sum, infinito presente di pre-sum, sono evidenti le due parti. Poi abbiamo probaremus, che è un congiuntivo imperfetto, prima persona plurale, attivo del verbo probo-proba-sprobare, un verbo della prima. Interesse, che è un infinito presente anch'esso, composto di sum, sono anche qui ben distinguibili le due parti inter-sum, quindi interesse infinito presente di inter-sum, e siamo arrivati così al punto e virgola. All'interno di questo periodo riconosco come elemento subordinante il cum, che naturalmente va col congiuntivo probaremus, e poi ci sono degli infiniti che costituiscono le infinitive. Andiamo al file dell'analisi già strutturata, e appunto riconosciamo ancora questo cum con più congiuntivo, all'interno c'è un'infinitiva, ma anche all'esterno c'è un'infinitiva, quindi due infinitive coordinate sempre dipendenti da probaremus, quindi se da cum fino ad eum abbiamo delle subordinate, cum più congiuntivo oppure infinitive, significa che oc con modus in contextu operis retur è la principale. Traduciamo ocche, che vuol dire ciò nel senso di questa risposta, quindi la risposta alla domanda di Lucilio, perché molti mali capitano agli uomini buoni, ocche, quindi questa risposta, redderetur verrebbe data, com modus è un avverbio al grado comparativo, e l'avverbio al grado comparativo si costruisce con il comparativo corrispondente dell'aggettivo neutro, quindi com modus lo traduciamo con più adeguatamente, in contextu operis, cioè nel contesto di un'opera, intendendo nel contesto di un'opera organica. cum provaremus è proprio la costruzione del cum più congiuntivo, sarebbe dimostrando noi, naturalmente non possiamo tradurre con questo gerundio un po' pesante, allora la sciogliamo, e la sciogliamo in una temporale, quando dimostrassimo, oppure anche laddove dimostrassimo, o laddove che poi sfocia nella temporale, quindi laddove dimostrassimo, quando dimostrassimo, seguono delle infinitive che sono sottolineate in azzurro, quindi mettiamo subito un che, laddove dimostrassimo che, sappiamo bene per le regole delle infinitive, che il soggetto è in accusativo, quindi qui trovo per l'appunto l'accusativo providenza, quindi dove dimostrassimo che la providenza, presse, pressum vuol dire, presiede, ecco che la providenza presiede universis, a tutte le cose, quindi presiede a tutte le cose, et interesse nobis deum, il soggetto di questa nuova infinitiva è deum, e che Dio interesse nobis vuol dire prova dell'interesse per noi, quindi si interessa di noi. Ripeto, allora, ok, questa risposta, redere tur, verrebbe data, con modus, più adeguatamente, in contextu, nel contesto operis, di un'opera organica, cum probaremus, quindi quando dimostrassimo che providenziam, la providenza preesse, presiede, universis, a tutte le cose, quindi all'universo, et, e che deum, Dio, interesse nobis, si interessa di noi, il verbo intersum latino vuole il dativo della persona di cui ci si interessa. Continuo con l'analisi, sed quoniam, a toto particulum revelli placet, et unam contradiczione emanente lite integra solvere, faciam rem non difficilem, causam deorum agam. I verbi di questo nuovo periodo sono revelli, che è l'infinito presente passivo di revello, revellis revellere, verbo della terza, placet è un verbo della seconda coniugazione, e dell'indicativo presente, terza persona singolare, poi abbiamo manente, che è un participio presente del verbo della seconda coniugazione manere, quindi mane o manes manere, ed è un ablativo singolare femminile concordato con lite, lis litis è un femminile della terza declinazione, abbiamo poi solvere, che è l'infinito presente del verbo della terza coniugazione solvo solvis e solvere, faciam è un indicativo futuro, prima persona singolare del verbo facio facis feci factum facere, verbo in io della terza coniugazione, infine agam che è un anch'esso come faciam un indicativo futuro, prima persona singolare, del verbo ago agis e gi actum agere, verbo della terza coniugazione. Anche in questo nuovo periodo riconosciamo gli elementi subordinanti, subito si offre alla nostra attenzione il quoniam, che avrà come verbo placet, dentro c'è un revelli, che è naturalmente un infinito, quindi siamo di fronte ad una infinitiva. Riconosco anche un altro infinito, solvere, che è quindi concordato con l'infinitiva precedente, quindi abbiamo due infinitive che dipendono da placet, poi abbiamo manente lite che integra, che è evidentemente un ablativo assoluto, perché riconosciamo la parte verbale del participio presente in ablativo e la parte nominale lite, che è l'ablativo di lis litis, e poi abbiamo faciam rem non difficilem e causam deorum agam, che evidentemente saranno le due principali. Andiamo al formato pdf e riconosciamo dunque la struttura così evidenziata. Quindi quoniam va con placet, ed è una proposizione causale. Da placet dipendono due infinitive, ad otto particolam revelli e tunam contraddiccionem, solvere, in mezzo abbiamo manente lite integra, che è un ablativo assoluto. Quindi le ultime due proposizioni saranno necessariamente due principali, coordinate tra di loro, per assindoto in pratica c'è soltanto una virgola. Quindi causale, infinitiva, ablativo assoluto, principale, è coordinata alla principale. Passiamo alla traduzione. Sed quoniam, ma poiché. Placet, qui nel senso di si è deciso, non tanto piace, che non sta bene, ma si è deciso, il verbo ha anche questo significato, ma poiché si è deciso. Seguono due infinitive, quindi metto si è deciso che. particolam, una piccola parte, revelli, infinito passivo, quindi sia stralciata, a toto, dal tutto, cioè dall'intero, et, e, sempre che, perché è un'altra infinitiva, e che, solvere, e che risolviamo, oppure possiamo mettere anche nella forma implicita, e di risolvere unam contraddictionem, una sola contraddizione, manente, lite, integra, alla lettera vuol dire, lasciando, lite, la causa, integra, impregiudicata. Possiamo anche lasciare così, perché, alla fine la traduzione sta bene, quindi lasciando, impregiudicata, la causa, è un linguaggio che, Seneca, desume, dal, dal mondo giuridico, i campi metaforici, di cui, Seneca si avvale, per costruire, il suo linguaggio filosofico, sono, spesso, quello giuridico, quello militare, quello medico, ecco, in questo caso, in manente, lite, integra, e ancora più sotto, causam, deorum, agam, Seneca sta utilizzando, il linguaggio giuridico. Dunque, faciam, rem non difficilem, farò una cosa non difficile, e cioè, che cos'è questa cosa non difficile? E agam, causam, deorum, quindi, assumerò, agam, causam, la difesa, anche questa è un'espressione, costruita, tipica del linguaggio giuridico, giuridico, agere, causam, vuol dire assumere la difesa, e di chi si assume la difesa, di chi vuole diventare avvocato, Seneca, addirittura, deorum, degli dèi. ripeto tutto quanto, ma poiché, placete, si è deciso, che una particella sia stralciata dal tutto, possiamo anche dire, possiamo anche trasformare il verbo revelli in attivo, e rendere tutte e due le infinitive implicite, quindi, ma poiché si è deciso di stralciare una piccola parte dal tutto, e di solvere e di risolvere unam contraddizionem, una sola obiezione, ma nente lite integra, lasciando impregiudicata la causa, faciam rem non difficile, farò una cosa non difficile, e cioè, agam, causam, teorum, assumerò la difesa degli dèi. Proseguo con la lettura, super vacum est, in presenza, ostendere, non sine alicoa custode, tantum opus stare, nec unc siderum coetum, discorsumque fortuiti impetus esse, etque casus incitat, sepe, turbariet, cito, arietare, ac in onfensam velocitatem procedere eterne legis imperio, tantum rerum terra marico e gestante, tantum clarissimorum luminum, et ex disposito relucentium. Siamo arrivati a un punto e virgola, dunque ci fermiamo qui. Prima di tutto individuiamo i verbi. Il primo è est, indicativo presente del verbo essere, terza persona singolare, ostendere è l'infinito presente di un verbo della terza coniugazione, ostendo, ostendis, ostendere appunto è della terra, è l'infinito. Poi abbiamo stare, altro infinito presente del verbo sto stasse, steti, statum stare. Abbiamo esse, infinito presente del verbo essere, incitat, indicativo presente, terza persona singolare del verbo incito, incitas, incitare, è un verbo della prima, della prima è anche turbare, di cui turbari è l'infinito presente passivo, arietare è un verbo della prima coniugazione anch'esso ed è un infinito, poi abbiamo procedere, verbo della terza coniugazione, procedis, procedere l'infinito ed è un infinito presente attivo, poi riconosco gestantem, participio presente, accusativo singolare, può essere sia maschile che femminile, vedremo poi con chi va, dal verbo gesto, gesta, saggestare, quindi anch'esso verbo della prima coniugazione, riconosco ancora relucensium, che è un participio genitivo plurale, può essere di vario genere, è un participio presente del verbo relucere, e quindi è un verbo della seconda coniugazione. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, allora riconosco molti infiniti, ostendere, stare, esse, riconosco poi una relativa, poi ancora infiniti, turbari, arietare, procedere, è un participio presente gestante, ma è ancora un altro participio presente, quindi è evidente che la principale è super vacuum est in presenza. Passando al pdf, quindi riconosco una struttura di questo tipo, super vacuum est in presenza, ostendere, è la principale, in cui ostendere è l'infinito, che fa da soggetto al verbo essere, e super vacuum è la parte nominale del predicato. Poi da ostendere dipendono gli infiniti, da non sineale quo custode, tantum hocus estare, prima infinito, un caesiderum coetum, discorsum que fortuiti, impetus est, secondo infinito, poi abbiamo un et, e ancora gli infiniti proseguono con sepe, turbarie, cito arietare, a che in offensam velocitatem procedere, eterne, legis imperio, tantum rerum terra, marico gestantem, tantum clarissimorum, insomma, fino alla fine del periodo, eccolo qua, luminum et ex disposito relucensium, fino alla fine del periodo, continua l'azzurro delle infinitive. in mezzo abbiamo la relativa, que casus incitat. Bene, passiamo dunque alla traduzione, super vacuum est, è superfluo, in presenza, per il momento, al momento, ostendere, mostrare o spiegare, seguono delle infinitive, quindi mostrare che, oppure spiegare che. il soggetto della prima infinitiva è tantum opus, quindi una così grande opera, ricordiamo che l'aggettivo latino tantus tantatantum vuol dire così grande, una così grande opera, non stare, quindi non si regge, sine alico custode, senza un qualche guardiano, senza alcun guardiano, quindi diciamo che è una così grande opera, che sarebbe poi l'universo, non possa reggersi, il verbo potere non c'è, ma il senso è quello, non possa reggersi, senza alcun guardiano, poi il ne che mi introduce la seconda infinitiva, quindi sarebbe e che non, tuttavia io dico subito e che, mentre metto da parte il non, che poi appoggerò sul verbo esse, quindi e che, soggetti di questa nuova infinitiva sono unche coetum sidorum e anche discorsumque, quindi propriamente unche coetum discorsumque, sidorum è un genitivo plurale che è in mezzo a unche coetum e che è riferibile sia a coetum che a discorsum, quindi e che questo convergere discorsumque e divergere il quelque in clitico e divergere sidorum di stelle, che questo convergere divergere di stelle, siccome i soggetti sono due in italiano, devo usare il verbo plurale, quindi non sono, non esse, non sono, occorre sottintendere una parola, possiamo dire non sono il prodotto, non sono il frutto, impetus fortuiti, è un genitivo, un genitivo singolare, impetus è un nome della quarta, quindi il genitivo è inus, di un impulso fortuito, di un casuale impulso. Et, abbiamo adesso la terza infinitiva, che è subito seguita dalla relativa que, che comincia col que, que casus incitat, questo que mi impone di tirar fuori dal pronome relativo il suo antecedente, che sarebbe ea, et ea que casus incitat, quindi diciamo, e che le cose, e che le cose, que casus incitat, che il caso fa muovere, naturalmente le cose, che il caso fa muovere in italiano, è assolutamente improponibile, e quindi, diciamo, i movimenti, ecco, sostituiamo la parola cose con i movimenti, que che il caso incitat provoca, e che i movimenti che il caso provoca, seppe, spesso, turbari, vengono, finiscono in disordine, quindi vengono messi in disordine, et cito, e presto, arietare, cozzano tra di loro, arietare è un termine popolare, appartenente all'ambito militare, perché vuol dire propriamente, dar di cozzo come l'ariete, e l'ariete però è anche uno strumento militare, questo vocabolo è, proprio per la sua bassezza, era evitato da Cicerone, ma fu amato invece da Seneca, per la sua forte espressività, quindi, e che i movimenti, che il caso provoca, spesso, turbari, letteralmente vuol dire, sono turbati, cioè finiscono in disordine, et cito, e presto, arietare, danno di cozzo tra di loro, e anche in offensam velocitatem, introduce la quarta infinitiva, anche in offensam velocitatem, è il soggetto dell'infinitiva, il cui verbo è procedere, e questa in offensam, vuol dire propriamente questa senza inciampi, questa velocitatem, questa velocità senza inciampi, procedere, procede, imperio, al comando, eterne legis, di una legge eterna, quindi, e che questa, e che questa velocità senza inciampi, procede, al comando, di una legge eterna, fra questa infinitiva, e la precedente, c'è sicuramente, un contrasto, quindi, noi ci aspetteremo, un sed, invece, questa velocità senza inciampi, procede, al comando, di una legge eterna, questo sed, non c'è, la figura retorica, per cui si mette sotto silenzio, la congiunzione avversativa, si chiama, assindeto avversativo, assindeto, vuol dire proprio, mancanza di legami, alfa privativo, più sindesis greco, che vuol dire legame, quindi, assindeto avversativo, e, lo posso anche scrivere, fare una nota, così si vede meglio, ecco, la nota è stata creata, dove ho scritto, per l'appunto, assindeto avversativo, quindi, qui, ci dobbiamo aggiungere, un ma, ma, questa velocità, senza inciampi, procedere, quindi, procede, imperio, al comando, eterne legis, di una legge eterna, concordato con, velocità teme e gestante, che vuol dire, che porta, quindi, una velocità, che porta, terra, maricue, per terra e per mare, tantum, è il, il pronome, l'aggettivo in funzione pronominale, di, di tantus tantatantum, quindi, non è concordato con nulla, per questo lo chiamiamo pronome, ed è un neutro, quindi, che porta, sarebbe, tanto di cose, dove erum, funge da genitivo partitivo, e, se ne ama molto questo costrutto, invece di dire tante cose, lui dice, tanto di cose, ma noi in italiano, preferiamo dire, che porta, tante cose, per terra e per mare, ritroviamo poi, lo stesso costrutto, subito dopo, ancora tantum, che quindi è in anafora, con il tantum precedente, seguito da clarissimorum, e, e poi, andiamo a vedere, luminum, et, dispositor e lucentum, quindi ancora un tantum, più genitivo, andiamo dunque a tradurre, quindi, che porta, per terra e per mare, tantum rerum, tante cose, e, ancora, il complemento oggetto digestante, tantum clarissimorum, quindi, letteralmente vuol dire, tanto di luminum, di stelle, come sono queste stelle, sono clarissimorum, tanto di stelle luminosissime, concordato con luminum, non è soltanto l'aggettivo clarissimorum, ma è anche il participio relucentium, che vuol dire, quindi di stelle luminosissime, e che relucentium, e che brillano, relucentium, ec, disposito, in espressione idiomatica, già predisposta, già fatta, che vuol dire, in bell'ordine, quindi, riprendiamo un po' tutto il periodo, vuol dire, è inutile, per il momento, mostrare che, tantum opus, una così grande opera, stare, non stare, non si regge, sine alico custode, senza alcun guardiano, nec, e che, un coetum, e che questo convergere, divergere di stelle, non è, sottointeso, il frutto, il prodotto, di un impulso casuale, e che, ea, ea, sottinteso, quei movimenti, che il caso provoca, se per turbare, spesso vengono turbati, quindi spesso finiscono in disordine, et, cito, a rietare, presto cozzano tra di loro, invece, questa velocità, temino offensam, questa velocità, senza inciampi, procede, quindi questa velocità, procede senza inciampi, imperio, al comando, eterne legis, di una legge eterna, gestante, velocità che porta, per terra e per mare, tantum rerum, tante cose, e tante, sarebbe tanto di stelle, ma noi diciamo, tante luminosissime stelle, tante stelle luminosissime, e che brillano, ec, disposito, in bell'ordine. Procedo con l'analisi e la lettura. Non esse materie errantis, unc ordinem neque temere coierunt, tanta arte pendere, ut, terrarum gravissimum pondus sedeat, immotum, et circa, circa se properantis cieli, fugam spectet, ut infusa vallibus maria molliant, terras nec ullum incrementum fluminum senset, ut ex minimis seminibus nascantur ingentia. In questo nuovo periodo, riconosco l'infinito esse, infinito presente nel verbo sum, il participio presente errantis, in genitivo femminile, e dico femminile perché davanti c'è materie singolare del verbo erro eras errare, poi abbiamo coierunt, coierunt è visibile nelle sue due parti, è costituito da coierunt, ierunt è l'indicativo perfetto, terza persona plurale del verbo io, quindi il verbo è coeo, poi abbiamo pendere, che è un infinito presente del verbo copendo pendispendere della terza, sediat, congiuntivo presente del verbo sedio sedes sedere, terza persona singolare, properantis è un genitivo del participio presente del verbo della prima, propero properas properare, ed è appunto un genitivo, questa volta maschile singolare, e dico maschile perché c'è, abbiamo poi spectet, che è un congiuntivo presente del verbo della prima coniugazione spectas, spectare, molliant, congiuntivo presente, attivo, terza persona plurale del verbo della quarta coniugazione, mollio mollis mollire, e poi abbiamo sensiant, anch'esso un congiuntivo presente, terza persona plurale del verbo sensio, sentis e sentire, della quarta, nascantur, congiuntivo presente, terza persona plurale del verbo deponente, nascor nasceris, natussum nasci, è un verbo appunto deponente, nascor nasceris. Allora, da un punto di vista dell'analisi del periodo, riconosco ancora un infinito, che prosegue sulla scia degli infiniti precedenti, poi vedo un que, pronome relativo, poi vedo un ut, che naturalmente è costruito con questo congiuntivo, sedate, e siccome in mezzo c'è un et, che è una congiunzione coordinante, reggerà anche spectet, che è il congiuntivo successivo, poi abbiamo un altro ut, li segniamo tutti, poi ne vedremo il valore, questo nuovo ut, regge molliant, e il nec è una congiunzione di tipo coordinante, e quindi regge anche sentiant ut, intendo. Ut, un altro ut, ci sono tanti ut in anafora tra di loro, questo ultimo ut, terzo della serie, ut, primo ut, secondo ut, terzo ut, regge nascantur. quindi andiamo a vedere questa costruzione, anzi, destrutturazione del periodo, in pdf. Allora abbiamo un'infinitiva, non esse materia errantis, unc ordinem nec, il nec collega due cose dello stesso tipo, quindi è chiaro che devo tornare all'azzurro qua, saltando la relativa, tanta arte pendere. allora in mezzo quindi, quindi da non esse materia errantis, unc ordinem nec, tanta parte pendere, è ancora una volta, una infinitiva, dipendente da quel ostendere di sopra, da cui erano dipese poi tutte le infinitive che abbiamo già tradotto. In mezzo c'è la relativa, que temere, coi errant, e poi abbiamo questo triplice ut, 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 che è costruito in tutti i casi con il congiuntivo. Che tipo di ut più congiuntivo è? Beh, è evidente qua la soluzione, io l'ho segnata con due stelline, vediamo che ut è preceduto da tanta, quindi sicuramente ut è un ut di tipo consecutivo. Passiamo dunque alla traduzione. Non esse, quindi sempre mostrare che, posso metterci ancora che, non esse, non è, ecco, il soggetto dell'infinitiva, dimenticavo di dire, è unc ordinem, quindi è che, lo dico prima in italiano, è che questo ordine, questo ordine, non esse, non è materia errantis, di una materia vagante, cioè che questo non è un ordine di una materia vagante. Nec, come sempre, vuol dire e non, abbiamo già visto sopra la stessa identica situazione, metto prima e, e aspetto di tradurre il non quando trovo il verbo pendere, quindi è che, perché è una nuova infinitiva, quindi devo mettere è che, il soggetto di questa infinitiva, io lo ricavo dal pronome relativo que, tiro fuori, quindi il suo antecedente, posso mettere il pronome ea, che vorrebbe dire quelle cose, ma cerchiamo di evitare di dire quelle cose, e quindi diciamo è che, che gli elementi, usiamo la parola gli elementi, gli elementi que, pronome relativo, che, coierunt, si sono uniti, temere è un avverbio che vuol dire a caso, e che gli elementi che si sono uniti a caso, adesso finalmente trovo l'infinito, trovo il verbo e ci metto il non, non restano sospesi, è tanta arte, qui la parola arte ha il significato di equilibrio, è tanto, è tanta il suo aggettivo, che propriamente in latino vuol dire così grande, quindi con un equilibrio così grande che, gravissimum pondus, quindi la pesantissima massa, pondus vuol dire massa, è gravissimo ma è il suo aggettivo, pondus è una parola neutra, fa pondus ponderis, è neutro della terza declinazione, e che la pesantissima massa, terrarum, della terra, di solito si usa il plurale in latino, ma noi diciamo della terra, sedeat immotum stia immobile, et e circa sé, attorno a sé, spectet contempli fugam, la fuga, cieli properantis, letteralmente vuol dire del cielo che si affretta, cioè del rapido cielo, e che quindi contempli attorno a sé, la fuga del rapido cielo, cioè la fuga vorticosa del cielo. Seconda consecutiva che, maria, i mari, maria è il neutro plurale di mare, maris, neutro della terza, i mari, infusa, sarebbe propriamente, è il participio perfetto di infundo, e infusa è il participio perfetto che di solito ha valore passivo, ma accade spesso in Seneca che i participi perfetti, invece di avere un valore passivo, abbiano un valore attivo fattitivo, e questo è il caso, perché infusa lo traduciamo con penetrando, non penetrati, ma penetrando, quindi i mari, maria infusa, penetrando, ballibus, nei golfi, moliant, ammorbidiscano, terras, la terra, anche qui come terrarum di sopra, terras è al plurale, ma noi lo traduciamo al singolare, ammorbidiscono la terra, quindi nec, sensiant, nec è la congiunzione copulativa, sarebbe non, ecco però possiamo tradurre, perché il latino ce lo impone, con il nostro senza più infinito, perché in latino non abbiamo sine più infinito, non abbiamo neanche sine più gerundio, per dire il nostro senza più infinito, dobbiamo ricorrere alla coordinazione, quindi sarebbe e non sentano, e noi diciamo meglio in italiano, senza sentire, quindi alla lettera sarebbe nec e non, sensiant, sentano, ullum alcun, incrementum apporto, fluminum dei fiumi, qui invece di dire non sentano alcun apporto dei fiumi, noi diciamo senza sentire alcun apporto, fluminum, genitivo plurale di flumen, fluminis, dei fiumi. Abbiamo la terza ed ultima consecutiva, poi quindi che, allora che, ex minimus, seminibus, quindi da minutissimi semi, da minuscoli semi, nascantur, nascano, e il soggetto di questo nascano è ingenzia, quindi esseri di grandi dimensioni. Riprendo tutto questo complesso periodo, e partiamo da non esse, sempre dipendente da quel mostrare, dimostrare che, che un che, che questo non esse ordinem, non è un ordine materi errantis, di una materia vagante, nec, e che, sottintendiamo la parola gli elementi, e che gli elementi, queco, ierunt, temere, che si sono uniti a caso, non pendere, quindi non restano sospesi, tanta arte, con così grande equilibrio, ut, che, gravissimum pondus, la pesantissima massa, terrarum della terra, sedeat, stia immobile, e, e che, appunto, spectet, contempli, circa sé, attorno a sé, fugam, la fuga, del cielo i properantis, del cielo che si affretta, quindi del rapido cielo, e che, la seconda consecutiva, i mari ai mari, penetrando, infusa, vallibus, nei golfi, molliant, ammorbidiscano, terras, la terra, nec, sensant, e non sentano, ma meglio, senza sentire, ullum incrementum, alcun apporto, fluminum, dei fiumi. ultima consecutiva, che, quindi con così, da grande equilibrio, che, ex minibus, e minibus, da minutissimi semi, da minuscoli semi, nascantur, nascano, in genzia, esseri di grandi dimensioni. Si conclude così, il secondo paragrafo, di questo primo capitolo, concludo anche il video, rimandando, ai prossimi video, i successivi paragrafi. Grazie.